Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fipili, in direzione Firenze, si segnalano codei a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In A1 verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bibio con la variante di Valico Baccheraia. Per la viabilità cittadina, a Firenze, fino al 5 ottobre, lavori di realizzazione del nuovo marciapiede in Via del Paradiso. La strada è chiusa da Via Fortini a Via San Marcellino. Sempre a Firenze, iniziati i lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Gabriele D'Annunzio e Via Andrea del Sarto. La durata è di un mese. Infine, per i treni, sciopero nazionale del trasporto ferroviario fino alle 15.35 di oggi, info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!